Siamo all'interno degli studi di Canale 3 a Siena per parlarvi di un'iniziativa importante che si terrà venerdì nella città del Palio. Io tra l'altro pubblicamente mi scuso con il Presidente Vannini e con tutte le persone che interverranno perché avrei dovuto moderarla e per me era un grande piacere e un grande onore, per me ovviamente per Confindustria purtroppo un impegno a Roma mi porterà lontana da Siena. Quindi oggi faremo un po' un'anteprima insieme al Presidente Vannini perché partiamo intanto dalla notizia importante Presidente, l'apertura di un nuovo punto che sancirà anche un nuovo corso, ci fa un po' il quadro. Il quadro è il seguente, difensore civico regionale è un organismo di garanzia della regione toscana, per dire oltre il difensore regionale c'è il garante detenuti, il garante dell'infanzia, poi c'è il comitato regionale delle comunicazioni. Il difensore civico regionale in passato aveva anche dei colleghi difensori civici comunali o provinciali. Dal 2010 la difesa civica locale viene meno per una disposizione collegata a una legge finanziaria. Rimane il difensore civico regionale che raccoglie a sé le istanze di tutta la regione. La nostra idea è di riattualizzare le presenze sul territorio con degli sportelli decentrati, lo abbiamo aperto il primo a Pistoia l'11 luglio, il 12 di questo mese lo abbiamo aperto ad Arezzo, il 27, venerdì 27, presenteremo ufficialmente il protocollo di intesa con l'amministrazione provinciale per l'apertura di questo sportello decentrato su Siena. Tutte queste punti di riferimento decentrati sul territorio sono in collaborazione con le province afferenti. Facciamo un quadro più generale perché il difensore civico e soprattutto poi anche sotto la sua presidenza ha veramente dato vita a un'operatività a 360 gradi in grande crescita. Ci fa un po' il percorso Presidente? Il percorso delle nostre azioni, i dati sono che andiamo su 2300 istanze annuali, lo scorso anno che sono state queste, si va da tutte le fattispecie possibili, contenziosi tra cittadini, pubblica amministrazione, tra cittadini e gestori dei servizi pubblici. Chi non ha mai ricevuto una cartella pazza, una bolletta della luce, dell'acqua, del gas inopportuna in termini di contenuti e di consumi, noi risolviamo con quest'azione anche di conciliazione. Addirittura sull'acqua c'è proprio una commissione mista conciliativa tra difensore civico regionale e AIT, Autorità Idrica Toscana, per la risoluzione dei contenziosi delle bollette negli ambiti territoriali attraverso un confronto con i gestori dei servizi. Per esempio nell'area meridionale della Toscana la commissione vede il difensore da una parte e dall'altra il gestore, in questo caso l'acquedotto del Fiora. Si risolvono molti problemi, lo scorso anno contenzioso avvalso 2 milioni di euro, quindi un valore importante e questo è in grande crescita. Il nostro obiettivo addirittura è fare del difensore civico regionale un organismo di mediazione, il primo in Italia, oggi chiamano ADR, Alternative Dispute Resolution, un organismo di mediazione come sono presenti negli ordini professionali e sono anche presenti nel sistema delle Camere di Commercio. Poi chi si rivolge a noi, chi ha un contenzioso in ambito urbanistico, chi ha un contenzioso del corretto applicazione delle regolamentazioni urbanistiche nelle piccole amministrazioni, il corretto svolgimento dei consigli comunali, la possibilità del difensore di nominare anche un commissario ad acta nel caso di malfunzionamento o non corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti comunali, è accaduto anche questo. Si rivolgono a noi problemi di contenzioso in ambito di ambiente, inquinamento acustico, risoluzione dei problemi di immigrazione per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, ma poi chi di noi non ha mai avuto un problema di accesso agli atti della pubblica amministrazione, accesso civico generalizzato ma anche e soprattutto quello della 241 del 90. Ci chiedono le graduatorie concorsuali, i soggetti che hanno partecipato a dei concorsi, talvolta non è fornita tutta la documentazione prevista dalla normativa oppure le graduatorie dei bandi degli alloggi popolari o i contributi anche alle provvidenze universitari, degli assegni universitari dell'accesso alle case dello studente, quindi è un contenzioso abbastanza ampio. Segnalazioni importanti, andiamo come dico io dal lago al milione, cose piccole ma che sono grandi per il cittadino perché subisce un problema, a quelle più complesse di accesso agli atti o di corretto svolgimento e funzionamento degli enti pubblici fino ad arrivare al tema anche ricorrente delle barriere architettoniche, quindi da noi si rivolgono a noi le associazioni dei cittadini, i singoli cittadini ma anche un po' quelli del terzo settore, quindi tutta una dimensione di persone che aiutano anche a segnalare cose e ci permettono anche di sollecitare l'amministrazione a migliorare se stessi. Presidente, vogliamo dare un'anteprima anche del parterre di ospiti importante che avrà con lei venerdì qui a Siena? Come nelle precedenti aperture dei sportelli decentrati, l'iniziativa si svolgerà presso la Camera di Commercio di Siena-Rezzo, piazza Matteotti 30, ovviamente ci saranno i saluti dei padroni di casa, quindi il Presidente della Camera di Commercio Massimo Gasconi e il Segretario Generale Giuseppe Salvini, un intervento poi di presentazione della Convenzione da parte del Presidente dell'amministrazione provinciale, ora si chiama provincia di Siena, Silvio Franceschelli, poi l'intervento del sottoscritto difensore civico regionale, le conclusioni importanti del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni che su questo ci dà una grande spinta, una grande spinta perché crede molto in questo decentramento territoriale, abbiamo anche una risoluzione del Consiglio regionale votata in maniera importante e significativa all'unanimità, nella quale gli indirizzi sono anche del decentramento nei territori e anche la direzione della Costituzione dell'organismo di mediazione. Questo abbiamo invitato le autorità del territorio ma anche tutte le persone che crediamo siano quelle di maggiore interfaccia per i nostri uffici che tra l'altro non è il difensore civico regionale, abbiamo anche due hashtag, conosci il difensore civico ma anche il difensore civico regionale non è solo perché l'idea è che ci sia solo un individuo, invece la difesa civica regionale toscana prima in Italia ad essersi costituita oltre 40 anni fa, subito due anni dopo la costituzione delle regioni, ecco la difesa civica regionale della Toscana è una di quelle più all'avanguardia perché rispetto ad altre ha regime da oltre 25 anni il contenzioso anche in ambito sanitario che non ho citato prima. Quindi il difensore civico non è solo nel senso c'è un funzionario esperto in sanità, uno in urbanistica, l'altro nelle tariffazioni, un altro nell'accesso agli atti, un altro nell'immigrazione, nell'ambiente, insomma c'è uno staff. Noi abbiamo deciso di intesa con questo staff anche di sensibilizzare il territorio soprattutto del movimento del sistema consumeristico dell'associazione dei consumatori, il terzo settore che nella provincia di Siena è brillantemente operativo e poi tutto il sistema delle rappresentanze sindacali e degli interessi diffusi, quindi coloro che possono aiutare ad aumentare il numero delle istanze perché abbiamo visto che la percentuale prevalente delle istanze pervengono dall'area metropolitana centrale che dei 3,8 milioni di abitanti rappresenta una percentuale di oltre il 30-35%. Quindi decentrare i suoi territori anche per far aumentare le istanze i cittadini che hanno una piacere di interfacciarsi con un funzionario dell'ufficio di relazione con il pubblico della provincia di Siena ed esporre allo stesso casistiche, problemi, trovare anche il modo di ben scrivere l'istanza, le persone anziane che hanno bisogno anche di analizzare di un confronto più tradizionale non attraverso la comunicazione 2.0, cioè non tutto si può mandare attraverso i social, non tutto si può mandare per... Quindi la vostra è una vicinanza vera, concreta? Sì, è un servizio di prossimità per aiutare anche tanti gestori dei servizi pubblici, hanno abbandonato i punti di ascolto sui territori, non faccio riferimento a quale gestione per non mettere in difficoltà il brand, però molti hanno fatto un accentramento sull'ambito quasi nazionale e quindi non sempre il cittadino quando ha un problema con una gestione di un servizio, il call center, il dialogare con Matrix o con una virtualità o con un disco o con un operatore che risponde da un'altra parte dell'Italia o addirittura anche fuori Europa è un problema per una persona a certa età. E allora quel problema diventa meno, più piccolo, anche se rimane oggettivamente lo stesso, ma soggettivamente è più piccolo se è esposto a un funzionario che gli collaziona, gli scrive un'istanza, la inoltre a noi e noi cerchiamo di risolverla. Benissimo, allora questi e tanti altri saranno i temi appunto trattati venerdì, vi ricordo che questo emittente trasmetterà nel print time serale di venerdì stesso l'integrale delle riprese del convegno con poi varie ripetizioni nel corso dei giorni successivi e poi la messa on demand nella nuova web tv nella sezione approfondimento. Quindi chiunque fosse interessato a rivedere o informarsi potrà avere anche questo servizio. Presidente, grazie per la sua disponibilità. Un ringraziamento a Canale 3 Toscana per quello appunto ha detto Virginia che tra l'altro l'argomento lo conosci molto bene perché non solo giurisprudenza ma ti ha fatto anche un dottorato di ricerca mi sembra. Quindi il tema è vivo e tra l'altro come sottolineava il Presidente Vannini e questo come toscani ci deve fare ovviamente molto piacere, il difensore civio toscano è proprio un esempio in Italia di avanguardia e con le iniziative che sono in corso e quelle in programmazione sta sempre di più rappresentando un faro nella difesa del cittadino in quell'ambito che ormai in Italia come in tanti paesi europei sempre di più prende corso ossia di una giurisprudenza di un'attività legale di assistenza parallela e sostitutiva di iter tradizionali che per lunghezze per una serie di problematiche del sistema legale tradizionale hanno fatto sì che appunto il cittadino potesse trovare soddisfazione e nei tempi e nei modi in iter giuridici diversi e questo raccontato oggi da Vannini e approfondito in una giornata di venerdì è proprio un esempio importante che vede la Toscana come esempio al centro quindi questo è una buona notizia buon lavoro al presidente Vannini e grazie a voi per l'attenzione